Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. SPS Radio App. A Wimbledon spettacolare match tutto italiano tra Yannick Sinner e Matteo Berrettini. Vince Sinner in 4-7 e quasi 4 ore di gioco. Benvenuti al Giornaladio di oggi, giovedì 4 luglio, con voi Massimiliano Gugole. Benvenuti al Giornaladio di oggi. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha giustificato la sua deludente prestazione al dibattito citando stanchezza ed una recente influenza. Non era la sua migliore notte. Aveva un caldo, era un jetlaggio. Vi ho sentito direttamente dal Presidente su questo. Quando si è scoperto, quando si è scoperto, si è scoperto. E' quello che mi concentrerò. Il Presidente continua a essere molto stedico e continua a lavorare per gli americani. Ci spostiamo ora nel Medio Oriente. Secondo le Nazioni Unite sarebbero centinaia di migliaia le persone che potrebbero essere sfollate dopo che Israele ha ordinato ai palestinesi di lasciare la città di Han Yunis, nella striscia di Gaza. Lunedì 1 luglio l'esercito israeliano ha ordinato un'evacuazione di massa dei palestinesi da gran parte della seconda città più grande della striscia. E questo suggerisce che è probabile che le truppe lanci un nuovo assalto via terra che Israele sostiene essere al fine di combattere i militanti di Hamas. Andrea Di Domenico, che dirige l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, spiega che gran parte di Han Yunis era stata distrutta in un lungo assalto all'inizio di quest'anno. Ma nel frattempo un gran numero di palestinesi era tornato indietro per sfuggire ad un'altra offensiva israeliana, a Rafa. Ed ora in Australia, durante il Question Time in Parlamento, nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, il primo ministro Anthony Albanese ha risposto a domande sulla senatrice Fatima Payman, sospesa dal partito taloborista e che a breve potrebbe lasciare il partito. L'annuncio delle dimissioni potrebbe arrivare già oggi. Ricordiamo che la senatrice del Western Australia è stata sospesa a tempo indeterminato dal partito per aver votato contro le indicazioni del partito e aver sostenuto una mozione dei Verdi sulla creazione di uno Stato palestinese, affermando poi che lo avrebbe fatto di nuovo in una votazione simile. Nonostante la sospensione, la senatrice Payman aveva precedentemente affermato di non avere intenzione di lasciare il partito. Quando gli è stato chiesto se oggi sarebbe stato l'ultimo giorno di Payman come membro del partito laborista, il senatore Dan Ripercioli, che rappresenta il seggio di Hunter nel New South Wales, ha detto che spera di no. Si vota oggi nel Regno Unito con i sondaggi che mostrano che il partito laborista sia presto a conquistare una vittoria schiacciante che, secondo ogni previsione, porrà fine ai 14 anni di governo conservatore, consegnando a chi è stame le chiavi dell'ufficio del primo ministro al numero 10 di Downing Street. La proiezione finale dei seggi pubblicata ieri da YouGov suggerisce che i laboristi potrebbero conquistare 431 seggi, così ottenendo una maggioranza di 212 seggi, la più grande di qualsiasi partito nella storia del paese. Il primo ministro, Rishi Sunak, ha lanciato un nuovo appello al voto affinché il partito conservatore possa vincere. La guardia costiera di Taiwan ha segnalato che le autorità cinesi hanno sequestrato e abbordato un peschereccio taiwanese per la pesca dei calamari, che operava vicino alla costa cinese in una ulteriore escalation di tensioni. La Cina considera Taiwan un suo territorio e ha aumentato le pressioni su Taipei dopo l'elezione del presidente Lai Ching-te a maggio. La guardia costiera taiwanese sostiene che il peschereccio è stato avvicinato da due imbarcazioni dell'amministrazione marittima cinese prima di essere portato in un porto cinese. La guardia costiera cinese afferma che il peschereccio ha violato il divieto estivo di pesca e ha svolto attività di pesca strascico illegale. Il vice direttore generale della guardia costiera taiwanese, Hsieh Chin Chin, ha chiesto il rilascio immediato delle persone a bordo. La Tasmania ha annunciato piani per combattere l'invecchiamento della popolazione incoraggiando i giovani a rimanere e reclutando più migranti dalla terraferma. Nel suo primo discorso sullo stato dello Stato dopo le elezioni di maggio il premier Jeremy Rockcliffe ha presentato l'ultima politica demografica del suo governo che introdurrà una serie di iniziative, tra cui la concessione di terreni pubblici in eccesso per servizi per la prima infanzia e l'istruzione, incentivi per la costruzione di nuove case e la fornitura di prestiti senza interessi a breve termine fino a un milione di dollari per appartamenti. La politica prevede anche incentivi per incoraggiare infermieri, ostetriche e medici di base a trasferirsi nello stato insulare, in particolare nelle aree regionali. Il premier Jeremy Rockcliffe ha ricordato che l'età media della popolazione della Tasmania era di 26 anni nel 1971 ed oggi è di 42, 4 anni in più rispetto alla media nazionale. This has a significant impact on demand for our services and a significant impact on our productivity and there is no doubt that we must strengthen our focus on increasing the retention and attraction of younger residents and we must do so while still supporting the well-being of all Tasmanians of all ages and stages of life. Un aggiornamento ora sul caro affitti con un nuovo rapporto che ha rilevato che i prezzi nelle maggior parte delle principali città australiane stanno diminuendo, sono stabili o, se crescono, lo fanno a un ritmo più lento. La piattaforma immobiliare Domain, esaminando le proposte contenute nel proprio sito internet, ha trovato che la scarsità di case in affitto ha spinto i prezzi verso l'alto per molti mesi ma ora le condizioni starebbero migliorando per gli affittuari. Ad esempio, i prezzi degli affitti per le case sono scesi dell'1,8% a Hobart nel trimestre che termina giugno mentre sono rimasti stabili a Sydney e a Perth. Nel mercato dei cambi il dollaro australiano oggi vale 62 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, iniziamo oggi dal tennis con il torneo di Wimbledon che ha visto nelle ore scorse un incontro attesissimo in particolare dai tifosi italiani, quello tra Yannick Sinner e Matteo Berrettini che si è concluso con la vittoria dell'alto attesino con un risultato di 7-6, 7-6, 6-2, 7-6. Lascia quindi Berrettini, non senza aver dato fila da torcere da quello che resta il numero uno al mondo vincendo il terzo set in modo netto e perdendo gli altri tre set soltanto al tie-break. Un'incredibile impresa anche di Fabio Fognini che passa al terzo turno battendo il norvegese Rude numero 8 al mondo e lo fa all'età di 37 anni. Non ce l'ha fatta invece Lorenzo Sonego sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agot che ora incontrerà proprio Fognini ed eliminato anche il doppio di Bolelli e Vavassori. Jasmine Paolini prosegue invece la sua corsa e supera in due set la belga minne 7-6, 6-2. E nel Tour de France nella quinta tappa ha prevalso Mike Cavendish con la sua 35esima vittoria di tappa al Tour con la quale stabilisce un record assoluto nella gara. Il 39enne britannico diventa così l'atleta che ha vinto più tappe nella storia della Grand Boucle. Era dal 2021 che non conquistava una vittoria. La maglia gialla resta al momento allo sloveno Tadej Pogacar. Concludiamo il giornale di oggi con le previsioni del tempo nuvolosità in aumento a Perth con 19 gradi di massima a Dallade una giornata prevalentemente serena con 16 gradi a Melbourne e Hobart parzialmente nuvoloso con 13 gradi di massima a Melbourne e 11 a Hobart. A Canberra giornata nuvolosa con 13 gradi di massima a Sydney piogge con 18 gradi. Giornata prevalentemente nuvolosa a Brisbane con 21 gradi a Cairns piogge si toccheranno i 27 gradi mentre a Darwin splenderà il sole con 31 gradi di massima.